In Ungheria è allarme e discriminazione e intolleranza. Secondo un recente studio americano condotto dal Pew Research Center, il paese risulta essere al momento lo stato più xenofobo in Europa. Secondo i dati diffusi dal think tank statunitense, il 72% degli ungheresi ha una visione negativa della comunità musulmana, secondo i polacchi al 66%, mentre in Spagna la percentuale scende al 50% e in Francia, paese con il più alto numero di arabi musulmani, al 29%. In Ungheria il razzismo è cresciuto rapidamente dal 2010, secondo quanto sostengono anche gli analisti, ovvero da quando il partito di Viktor Orban è al governo. Stiamo monitorando l'allarme e xenofobia dal 92 e la tendenza è la seguente. Prima questo sentimento di avversione cresceva lentamente, ma dal 2010 ha iniziato ad aumentare più velocemente, con un boom nel 2015, raggiungendo il picco dall'inizio del 2016. Secondo il ricercatore Andreschik, alla base di tutto, ci sono le forti tradizioni nazionali, ma anche la presa di posizione del governo con il rispingimento di migliaia di migranti ammassati ai confini del paese. Da ricordare poi la campagna antiprofughi di Orban, con affissioni e manifesti per le strade della capitale. Non sorprende dunque che l'82% degli ungheresi pensi che i rifugiati possano avere un impatto negativo sull'economia del paese. All'opposto invece troviamo la Germania, dove moltissimi lavoratori sono proprio immigrati. Intanto il capo dello Stato ungherese ha formalmente comunicato che è stata scelta la data del 2 ottobre per il referendum, in cui i cittadini magiari saranno chiamati a dire se accetteranno meno una ripartizione di quote di profughi e migranti, decisa dall'esecutivo europeo, con una campagna a fissioni molto diretta. E dopo i recenti attacchi nel paese, cresce la paura verso l'immigrazione, ritenuta dal 76% la causa del terrorismo. Mentre la prima campagna, dice questo analista, ha voluto influenzare le menti delle persone con messaggi come gli immigrati ruberanno i posti di lavoro degli ungheresi, la nuova campagna gioca più sul fattore emozionale, paura di un aumento del crimine, del terrorismo. Questo non fa altro che accrescere la xenofobia. Da tempo Orban si è detto contrario alla politica europea della ripartizione in quote e in questa sua linea trova il consenso della grande maggioranza del paese.